Con 22 voti favorevoli e due contrari, il Consiglio Comunale di Lucca ha approvato l'assestamento generale del bilancio di previsione 2011. Il provvedimento illustrato dall'assessore alle finanze Amelia Coli ha visto variazioni sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Per quanto riguarda le prime, vanno segnalate tra le voci più importanti i maggiori introiti per violazioni al codice della strada 500.000 euro. Per i dividendi di Lucca Holding 450.000, per il rilascio dei permessi per l'accesso dei veicoli in centro storico 70.000, per i diritti connessi all'edilizia urbana 20.000 euro, per i proventi relativi all'assistenza domiciliare 45.000 euro. Minori entrate invece sul fronte delle menze scolastiche, meno 200.000 euro, dalla COSAP meno 100.000 e dalla recupero delle spese postali per sanzioni al codice della strada meno 150.000 euro. Per quanto riguarda le uscite, si segnalano maggiori spese rispetto a quanto previsto per le bollette dell'acqua, per spese legali, per il teatro del Giglio. Minori uscite invece in materia di personale, comunicazione, appalti e asilo nido, interessi e IVA a debito. A seguito della presente variazione, il Comune ha conservato il pareggio economico e l'equilibrio generale di bilancio e ha rispettato l'obiettivo imposto dal patto di stabilità. Infine, con la presente variazione, viene applicata al bilancio un'ulteriore quota dell'Avanzo 2010 al finanziamento del Fondo Svalutazione Crediti, 300.000 euro e agli ammortamenti 530.000 euro.